Il momento bello è sempre, lavorare con questi ragazzi è veramente un onore oltre che un piacere per me. È chiaro che il risultato oggi è la ciliegina sulla torta, ma veramente mi interessa poco. Come mi interessa poco quando perdiamo, mi interessa poco anche quando vinciamo. È chiaro che per un gruppo di ragazzi giovani è una vittoria dopo tanto tempo. Ripeto, è l'infa vitale per andare avanti e continuare a lavorare durante la settimana. Non è una vittoria a caso, è stata una vittoria voluta. Dal primo all'ultimo minuto sempre avanti, 5-6 lunghezze nel finale fino a 10 punti di vantaggio. Segno che questo gruppo ci ha tenuto dall'inizio a vincere questa partita. Anche in quel momento del primo tempo quando il Secchia Rubira si è rimessa a meno uno, ha avuto la forza subito di riportarsi sul più 5. Sì, chiaramente noi giochiamo contro squadre che devono salvarsi. Questi punti vagono, fanno classifica, quindi queste squadre non molano mai. Noi siamo stati bravi a reagire dopo fondi perché, come avevo già detto in precedenza, noi abbiamo fatto un ottimo primo tempo ma poi ci siamo spenti. Invece oggi siamo stati in grado a tenere alto il livello per 60 minuti. Abbiamo avuto un paio di cambi più, li abbiamo ruotati abbastanza bene. Ho dato poco spazio a qualcuno, è colpa mia. Forse devo dare un po' più spazio ma ci sarà modo più là per giocare per tutti. Ma adesso subito testa mercoledì perché abbiamo un'altra partita fondamentale, importantissima per noi, dove dobbiamo dare continuazione a questa vittoria, a questo gioco ben espresso oggi. A te non piace naturalmente parlare dei singoli e non lo facciamo neanche noi, però un dato c'è e cioè che quest'oggi tutti quelli che mi hanno dato in campo hanno segnato. Quindi anche questo è segno del gioco di squadra, della voglia di emergere un po' da parte di tutto il gruppo. Sono contento che mi dici queste cose perché io nello spogliatoio l'ultima cosa che dico prima di uscire è che se noi vogliamo provare a vincere ognuno di noi deve dare il 100%, a partire da me fino all'ultima ruota del carro, che non c'è l'ultima ruota del carro. Dico sempre ragazzi che siamo tutti uguali, chi gioca di più, chi gioca di meno ci aiuta in settimana. Oggi è stato così, tutti hanno fatto il proprio dovere e fortunatamente siamo riusciti a tenere il gioco per 60 minuti, il campo per 60 minuti e penso che si sia visto. Io sono molto contento del gioco espresso, ripeto, della vittoria sono felice, chiaro, non mi nascondo, ma del gioco espresso, di come i ragazzi hanno affrontato la partita, di come hanno avuto la testa fino in fondo, di non reagire magari anche a qualche piccola provocazione, di lottare, di correre, quindi bene, sono contento. Giusto festeggiare oggi, ma c'è un turno infrasettimanale questa settimana, quindi già da domani si comincia a lavorare per la trasferta con il Romagna. Domani e domenica gli diamo libero ai ragazzi, perché non c'è una settimana, ce l'hanno, ma da lunedì dobbiamo subito riniziare a studiare la partita di avversari del Romagna e allenarci come abbiamo fatto sempre in settimana. Per noi questi due punti non ci cambiano niente, noi dobbiamo continuare sulla nostra strada, come abbiamo fatto fino ad ora, e ripeto, il prossimo passo è avere una piccola continuità, avere continuità già da mercoledì. Mister, una sconfitta che proprio non ci voleva per voi. No, per niente, non ci voleva. Allora, eravamo molto molto preoccupati alla vigilia, perché questo non è il nostro roster. Va bene, però perdiamo di 10. Se vuoi un po' di statistiche, sono 28 tiri sbagliati. Sai quanti dai 9 metri? Due. Due? Cioè, guarda, dopo basta. Però perdi di 10, cioè. Inutile che io stia qua a dire due episodi, perdi di 10. 28 tiri sbagliati. Veniamo da una partita la scorsa dove ne sbagliamo 22, un po' di più da 9 metri. 26 tiri da 6 metri. Da... sì, e due da 9. Hanno pensato anche un po' le assenze, ce ne erano 6-7 di assenze, però forse per l'andamento della partita forse non sono giustificabili neanche tutte queste assenze per il risultato maturato. No, allora, sì. Sono giustificabili da un solo punto di vista. Cioè, nel senso che sono assenze pesanti, perché, dico una frase da Barper, ma penso che tutti noi di Arrubiera lo sappiamo, giocatori compresi, i sette fuori sono più forti dei sette dentro, ma questo è veramente una scusante. Pesano perché poi giocano sette giocatori. Cioè, e se non vanno pure, rimetti dentro uno che magari si è riposato un po', ma non ha la mente lucida per tornare a giocare. In questo senso pesano, ma potevamo vincere questa partita comunque. Mamma mia. Sbagliano i 15, che è già un numero allucinante. e oggi stai vincendo, anche perché Campus ordinatissimo, ordinatissimo, ma ci fa gol, tutto in tantissimi gol in contraattacco dai nostri tiri sbagliati. Quindi tu ne sbagli 15 invece di 28 e sei sopra comunque, in più loro corrono meno e via. Ma anche perché penso che si possa vedere la partita. Poi va bene, parliamo delle palle perse, una valanga, una valanga. Parliamo anche di quelle. E' andata così. Non c'è tempo però per, diciamo, pensare, analizzare la partita. Quella sicuramente vera fatta, perché già si torna in campo. Insomma, c'è turno infrasettimanale. Sì, certo, ma è molto mentale. Nel senso, la stagione è molto lunga, è molto mentale. Cioè, di base uno dovrebbe andare a giocare la prossima partita, tranquillo, e pensare alla prossima partita. Perché sennò poi era doppia. la raddoppia, mi viene una brutta parola, questo, no? Raddoppia questo. E quindi bisogna solo pensare alla prossima partita. È facile. Per niente. Ma cioè, non c'è da analizzare niente degli altri, eccetera. Cioè, noi arriviamo davanti al portiere e sbagliamo. Il campus Italia come l'ha visto? Ritorno a dire questa parola. Organizzatissimo. Organizzatissimo, pulito. La bellezza, secondo me, di lavorare con un gruppo giovane è che, non avendo preconcetti, loro, tra virgolette, eseguono. E quindi, se escono dagli schemi è perché magari non conoscono, no? ancora bene la palla a mano, il gioco, non conoscono ancora bene le situazioni, a differenza di una squadra senior dove lì la gestione fa la differenza. Insomma, meno male che ci sono un paio di talenti interessanti perché oggi tanto di cappella, un paio di tire, un paio di conclusioni. Per il resto, ripeto, ancora una volta, la parola che mi viene è ordinati perché giocano, sanno quello che devono fare, questa situazione, succede questo, rispondo con quest'altro. ordinati. Zanon, arriva la prima vittoria della massima serie. Insomma, innanzitutto, cosa si prova in questo momento per un giovane giocatore arrivare a questi primi punti importanti in una gara in Serie A1, in Serie A gold, nella massima serie? Sicuramente, siamo tutti contentissimi. La prima vittoria, dopo un pareggio sofferto con Cassano, adesso la prima vittoria, i primi due punti, sono tutti contentissimi. Contro una bella squadra, ce l'hanno fatta sudare, però alla fine il nostro gioco e la nostra velocità ce l'hanno portata a casa, questa vittoria. Gara combattuta dai primi minuti, subito una vittoria voluta dai primi minuti da parte vostra. Sempre avanti nel punteggio, anche di 5-6 gol. Avete avuto, tra l'altro, la forza in quel momento nel primo tempo quando il Secchia Rubiera si è rimessa a meno uno di subito riportarvi avanti in 4-5 gol di vantaggio e poi nel finale, in discesa, arrivare fino a 10 gol di vantaggio. Sì, non ci siamo fatti superare da loro, siamo stati sempre avanti. Abbiamo giocato sempre bene, non ci siamo mai fatti superare da loro e questo è un bene perché solitamente all'inizio del secondo tempo perdiamo un po', mentre oggi è andato tutto bene e infatti dal risultato si può vedere. Grazie a tutti.